Il brillante groviglio di nubi di gas che vedete in queste immagini è in realtà un'enorme incubatrice stellare nota come la nebulosa Gambero. Questa è la ripresa più nitida mai prodotta di questo oggetto. Si possono notare mucchi di stelle calde appena nate racchiusi dalle nubi che formano la nebulosa. La ripresa è stata effettuata dal VLT Survey Telescope dell'Osservatorio dell'ESO in Cile, il telescopio più ampio mai realizzato risultato di una joint venture tra l'ESO e l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte dell'INAF. La grande macchia luminosa nel cielo è una regione ricca di gas e mucchi di polvere scura. Queste nubi di gas sono regioni di formazione stellare che producono giovani stelle molto calde e brillanti. In luce visibile queste stelle appaiono di colore bianco-azzurro ma emettono anche radiazione intensa in altre zone dello spettro, soprattutto nell'ultravioletto. Ed è proprio questa luce ultravioletta prodotta dalle stelle che fa risplendere il gas. La nebulosa Gambero si estende per circa 250 anni luce e copre un'aria di cielo pari a 4 volte quella della nostra luna piena. Nonostante l'enorme dimensione è stata spesso ignorata dagli osservatori perché la maggior parte della luce viene emessa a lunghezze d'onda a cui l'occhio umano non è sensibile. Grazie per la visione!